Sono già portatrice di protesi, ma non sono più contenta. Cosa posso fare? È inevitabile che negli anni ogni risultato si modifichi. Quindi esistono molte pazienti che hanno avuto dei buoni interventi, ma che negli anni hanno perso la loro piacevolezza estetica. Esistono poi pazienti che hanno dei problemi. Una contrazione capsulare, il cosiddetto rigetto, uno spostamento della protesi. Allora distinguiamo i due problemi. Di fronte a problemi tecnici, a problemi che addirittura comportino dolore, bisogna reintervenire. Di fronte a problemi estetici, bisogna capire se la soluzione chirurgico-tecnica vale il reintervento. E qui è necessario capirsi bene col chirurgo. Io spendo una, due, tre visite prima di operare la paziente, e quindi devo far capire bene cosa comporta un reintervento. I reinterventi classici consistono nel togliere la protesi e cambiare la protesi, oppure togliere la protesi, cambiarla, o cambiare il piano chirurgico, quindi passare da una protesi sottomuscolare a una sottoghiandolare, o più spesso da una sottoghiandolare a una sottomuscolare. Quindi modificare la tasca, stringerla, in certi casi allargarla, se la protesi è aumentata di volume. 2. Togliere la cicatrice. Questi sono gli interventi classici. Qualche volta effettuare una mastopessi, quindi la protesi è scesa, non si vuole aumentare più di tanto, allora bisogna mettere una protesi più piccola, o una protesi dello stesso volume, ma bisogna togliere pelle. Quindi una mastoplastica additiva associata a una mastopessi, sotto forma di intervento secondario. Gli interventi secondari sono più difficili degli interventi primari, perché ci sono cicatrici, perché ci sono già dei vincoli imposti al chirurgo che interviene in seconda battuta dal primo intervento. È sempre buona norma, se c'è ancora un rapporto fiduciario, rivolgersi al chirurgo che vi ha operato la prima volta, perché comunque sa cosa ha fatto, e sarà molto motivato, da tanti punti di vista, a continuare a soddisfare la paziente, anche non avendo responsabilità, perché è inevitabile che un buon risultato, con il tempo, le gravidanze, gli allattamenti, l'invecchiamento non potrà più essere tale. Bene, esiste oggi però una soluzione nuova, estremamente interessante. È quella di utilizzare, in casi indicati, il tessuto adiposo e le cellule staminali, o i fattori legati alle cellule staminali, contenuti nel tessuto adiposo, per avvolgere la protesi, per migliorare dei risultati che in altri momenti si sarebbero potuti avere solo e unicamente tagliando, togliendo, cambiando protesi, eccetera. Quindi, quello che noi abbiamo definito come la tecnica Natural Breast, e vi invito a vedere le video guide su Natural Breast, che sono comprese in questo mio catalogo di video guide, per capire quali sono le veramente interessantissime possibilità anche di miglioramento di risultati non più soddisfacenti, senza un intervento invasivo, ma con un intervento meno invasivo, che comporta, tra parentesi, anche il vantaggio di una bella liposcultura del corpo.